Diciamo che la situazione in Italia varia molto da istituto a istituto, anche perché ovviamente lo staff per l'istituto, la direzione, il comandante della polizia presidenziale, i poli di vincenza, andano un pronta all'istituto. Poi naturalmente ci sono delle caratteristiche strutturali, ci sono degli istituti che sono più adatti a svolgere il caricato di attività perché sono più moderni. Ci sono istituti come per esempio Manassica, un vecchio istituto che oltre ad essere sovrappollato è anche delle caratteristiche strutturali che rendono difficile svolgere, per esempio, avere anche semplicemente un regime di celle aperte e negli spazi dove i detenuti possono muoversi con una certa libertà e svolgere dell'attività. Quindi direi che la situazione forse più felice di Liguria l'abbiamo con una chiave di più attività di struttura, che ha una capienza massima di 46 persone, 43 detenuti, quindi c'è la sua capienza massima dove la maggior parte dei detenuti fa svolgere attività o di formazione o di all'interno di laboratori, all'interno dell'istituto, coltivano un orto, molti lavorano anche all'esterno, per esempio con l'asle locale. Quindi ci sono delle situazioni, sicuramente, dove siamo particolarmente, mi sembra che sia una situazione particolarmente favorevole, naturalmente, però, appunto, come dicevo prima, da istituto per istituto le cose possono cambiare anche. Grazie.